Questa settimana a soli 49 centesimi al chilo, patate locali bianche, rosse e gialle, l'orto del Casale, freschezza e bontà a chilometro zero. Ti aspettiamo nei mercati di Riva Nazano Terme, Viguzzolo, Casal Noceto e Volpedo. L'annuncio del Papa Paolo VI sarà fatto santo entro l'anno e poi scherza io in lista d'attesa. Parlando del libretto con le frasi dei papi distribuito in Laterano, Francesco ha detto L'ho visto e mi è piaciuto tanto, ci sono due Vescovi di Roma recenti già santi, Giovanni XXIII e Giovanni Paolo II. Paolo VI sarà santo quest'anno, uno con la causa di beatificazione in corso, Giovanni Paolo I, la sua causa è aperta. E Benedetto e io in lista di attesa, pregate per noi. Ma i cittadini saranno favorevoli o contrari a questa battuta, dichiarazione, esternazione di Papa Francesco? Andiamo a sentire. Tutte e due. Tutte e due favorevoli alla beatificazione? Sì, sì. Il fatto che il Papa lo abbia detto, anche se sono effettivamente entrambi ancora in vita, no? È qualcosa che gli dà fastidio oppure la prende come una battuta? Io la prendo come una battuta. Il Papa che abbiamo adesso è molto spiritoso, è una persona simpatica. Diciamo che piace un po' a tutti. Sono due personaggi che danno simpatia, perciò poi sono molto scupolosi nel... Sono per la pace per tutti. No, sì, perché no? Sì. Vediamo come parla, è una brava persona. Tutto il mondo lo conosce. Noi vediamo più spesso con gli anziani che vediamo la messa, come parla, come vai nel mondo per fare le cose buone per la gente povera. Per noi queste cose mi piacciono. Il fatto che lui abbia detto, io dovrei meritare di diventare santo, ancora prima di morire l'ha detto, no? Ma non si sa, perché lui è una persona modesta, è una persona che... Merita di essere santo. Era una battuta. Merita di essere santo, ma lui fa tante battute, no, 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 mi piace. E Benedetto XVI invece? Ratzinger, anche lui era una brava persona, ma il tempo di conoscerlo non è stato... Sufficiente per capire se meriterebbe mai una beatificazione. Eh, non lo so, noi abbiamo finito qui. Guarda, non mi interessa. Come mai non ti interessa? Non sono questi i problemi, quindi... Nel senso che la chiesa non rappresenta un problema. No, gli altri sono altri problemi, non arrivare alla fine del mese, sono queste le cose importanti. Quindi non il Papa si fa... Il problema è che non ci sono più soldi, si fa fatica ad arrivare alla fine del mese e quindi... Quindi anche le beatificazioni secondo te non rappresentano un argomento importante? La politica, uguale. Assolutamente, niente, zero.